Ciao a tutti ragazzi, in questa video-lezione vogliamo risolvere la seguente equazione goniometrica. 2 che moltiplica tangente di 3x meno 1 più radical 3 uguale 1 meno 2 tangente di 3x più 3 che moltiplica 1 meno tangente di 3x. Visto che all'interno di questa espressione, con i numeri, compare soltanto la tangente di 3x, possiamo fare la seguente posizione. Tangente di 3x uguale t. Quindi la nostra espressione diventa 2 che moltiplica t meno 1 più radical 3 uguale 1 meno, aperta parentesi, 2t più 3 che moltiplica 1 meno t. Chiudiamo la prima parentesi e chiudiamo la seconda. Svolgiamo i calcoli ed otteniamo 2t meno 2 più radical 3 uguale 1 meno 2t meno 3 più 3t. A questo punto portiamo tutti i termini con la t al primo membro ed otteniamo meno 2t più 2t più 2t, che sarebbe questo meno 2t portato al primo membro, meno 3t uguale 1 meno 3 più 2 meno radice di 3. Quindi 2t più 2t è 4t meno 3t uguale 1 meno 3 meno 2 più 2 è 0 meno radice di 3. A questo punto ricordiamo che t è uguale alla tangente di 3x, quindi otteniamo tangente di 3x uguale meno radice di 3. Osserviamo adesso che la tangente di un angolo è uguale meno radice di 3 quando l'angolo è uguale a 2 terzi pi greco più k pi greco. Quindi possiamo scrivere che 3x è uguale a 2 terzi pi greco più la periodicità, quindi k pi greco, da cui otteniamo x uguale a 2 noni, dividiamo tutto per 3, pi greco più k pi greco terzi. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video lezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara, vi ringrazio per averla seguita. Sperando che sia stata chiara.